Cosa vuoi da me? Mi stia disse portati da me Chi semmo è stata solo una sbandata Che mi ha ancora innamorata Cosa vuoi da me? Ciao a tutti da Samo e Cusimano Sono qui all'emme sound di Mario Di Stefano per comunicarvi che finalmente riesco con il mio ultimo singolo dal titolo Cosa vuoi da me? Che questo troverete su tutti i digital store con il mio ultimo nuovo videoclip dal titolo Cosa vuoi da me? A presto, ciao ciao